Ciao Giulia, ci racconti un po' il mood e l'ispirazione della tua collezione? È partita tutto dal colore, dal nero al grito e tutti i toni del rosa fino al viola. Linee molto aderenti al corpo per quanto riguarda il tessuto, contrapposte alla maglia che invece ha forme molto più morbide e molto più avvolgenti. Se dovessi descrivere la donna ideale che deve indossare i tuoi capi? Una donna fine ed elegante, una giovane donna fine ed elegante. Senti, un pezzo che non può mancare nell'armadio di una donna? Petite robe noire, il vetino nero, assolutamente. È un must? Sì, è un must. Grazie Giulia. Prego.